Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di SCP Containment Breach Allora, vi racconto un po' cosa ho fatto negli ultimi giorni Quindi, quando stavo sottotitolando un sub ita diciamo, un classico ita in inglese che sottotitolavo tempo fa Tuttavia scopro che c'hai copyright proprio quando ho finito di farlo C'hai copyright e proprio non potevo caricarlo Perché erano copyright potentissimi ragazzi E proprio non erano creative commons Proprio se lo pubblicavo mi tiravano giù il canale Quindi Alfa e Aleph veniva tirato giù Quindi diciamo che... E non potevo fare il gameplay perché era Ci rivediamo e non potevo fare il gameplay perché Se avrò mal di gola anche adesso non sto benissimo Anche adesso non sto benissimo Allora almeno non riesco a parlare stavolta Come sempre dobbiamo stare dietro a sto qua Il gioco è sempre lo stesso Ci ho già fatto il gameplay la volta scorsa per chi non l'avesse visto Tuttavia questa volta ho cambiato mappa Perché la volta scorsa la mappa era troppo laberintica Non mi era mai capitata una mappa del genere Nelle prove che ho fatto Proprio mai capitata E quindi siamo qua Altro gameplay, altra corsa, altre finestre Non è un giorno fuori, finestra aperta Luce che entra ma che io ho troppo paura Ah, ho sistemato i problemi che venivano fuori da... Da... Ho sistemato i problemi dell'audio Perché la volta scorsa è troppo alto Un attimo ragazzi Sto accettando a mettere il testo di più Ok, stavo regolando le cuffie e il rumore Scusatemi ragazzi Vaffalpuro Via, 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 via Il gioco di troia, il gioco di troia Ok, ok Voi sapete già cosa succede ora Sì, quello sapete, perché l'avete visto E un paio di voi mi avete visto di sottopare un troppo Io voglio Sto parlando che il break è niso No, no un po' davanti Ah ok, ciao Scusatemi Scusatemi Stessa situazione merdosa della volta scorsa Con i cani che rompono il cazzo Merda, merda L'acqua fa il SCP che avrà un'attività Dobbiamo ridurrelo Ma un po' con questo lo faccio per voi Ecco qua, così questa roba qui la potete leggere anche dal... Dal sito che c'era di SCP Cosa ho preso? Che cazzo era qui la chiave La volta scorsa io forse era qui ma non l'ho presa Ma vaffalculo Gioco di merda Ok, andiamo avanti Sbattendo gli occhi sperando non sei qua Ok Forza troia va vicino Porco di cazzo Figuratevi con le luci spente L' SCP era dietro di noi ma l'abbiamo chiusa Vaffanculo Andiamo prima a sinistra Ok Porta chiusa Questo è un bene immenso ragazzi È un bene immenso Perché almeno diciamo da questa parte qua Non provengono i pericoli Ah salvo subito ragazzi Scusate non ho voglia di tagliare Perché come vi ho già detto Eh... Signorelle Lord Ok Ah questo qua è un altro SCP Anche salvo molto Perché se muoio almeno posso ricaricare Tuttavia però non ho visto il salvataggio che ho preso la volta scorsa Non so perché Forse c'ho gli stessi problemi di Ibe Vabbè non mi credi salvataggi Vabbè Eh ragazzi dovrebbe dire che non ne ho Ogni tanto mi toccherà soffermi il naso Perché come vi ho già detto prima Sto un po' male Gli cani del cazzo che abbagliano sempre Sto un po' male quindi non Non dovrei neanche portare gameplay Anzi Adesso avrei dovuto fare tedesco E c'ho un testo da imparare a memoria di tedesco Che io stesso ho scritto dov'è no? Avvero il quaderno in cucina Io c'ho tutta la camera mia che è Piena di cu Camera mia è disastrata Sono corsato a fare i compiti di cucina Camera mia ragazzi perché lo sappiate Proprio perché è generalmente abbastanza grande Tipo il doppio di Icriz non è una camera Ha un buco Tuttavia tipo La mia camera è più del doppio di quella di Icriz E proprio per questo non è camera mia È un ripostiglio Detro i miei ci tengono robe che non sono mie Ci tengono Oltre che è tutto È strappieno dei libri di scuola anche Ok continua Ok Vaffa il culo Eh se mi blocco così è perché c'ho il mouse Che da problemi Non so perché Ok Quindi scp17 di run Non si torna Avrei dovuto sbattere gli occhi molto prima Ecco ancora sto problema di merda Merda di qua Voi lo sentite il rumore delle pietre Significa di qua Dov'è? No dai ragazzi è qui in giro Ma non so se è a destra o a sinistra No è a destra No è a destra Cazzo è qui Merda Merda è qui Ma io Ma io sono fottuto Non aprimi questa Aprimi questa E che cristo Fatto male E questo No no Chiudi Chiudi subito No 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 Santo il signore No Cazzo è No Figlio di troia Si sa aprire le porte Quando è che hai imparato Io non sono qui Io non sono qui Lasciami stare figlio di troia Vaffanculo Vaffanculo Cucu Cucu Ho sentito muoversi il bastardo Come Merda Guarda lì avevo detto Mariati Ma Si dai Ma Merda Cazzo Grazie a te Io non l'ho visto Mi sono anche fatto male Vaffanculo 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 Che roba Ma Ed è un gioco Ancora Ancora Una grafica limitata A schermo piccolo A schermo piccolo Figuratemi A giocare ad outlast A schermo intero La miseria La miseria Non ho capito che stavo cliccando La miseria ragazzi La miseria Ecco cos'è Cos'è questo gioco Quando mi hanno regalato Dead Space Sapete io che ho fatto Siamo sempre qui Ma si dai Proviamoci Sempre L'ho dato a un mio amico E ora Questo amico se lo tiene Ah qui c'è un Vaffanculo Mouse di merda Qui c'è Un cadavere E' qui E' qui Lo trovo davanti eh Vieni qua Bastardo Ok Ma è qui E' qui vicino al muro eh Gioco di merda Gioco di merda Gioco di merda Gioco di merda Vieni qua stronzo Vieni qua Vaffanculo Tua madre è troia Tua madre è troia Tua madre è una stata troia Dio caro Ok Tua madre è fatta di veleno Perché tua madre è troia Sono inculato Sono inculato come a sangue Sono inculato a sangue Sono inculato a sangue Gioco di merda Sto sudando Sto sudando Porco il cazzo E non è perché ho caldo Porco il cazzo Porco il cazzo Porco il cazzo Questo qui lo faccio ai 10 minuti Perché non gli reggo I giochi horror Le bare Le fanculo Che ha creato la scp Fanculo Sti creatori di sto gioco Fanculo voi che me lo fate fare Va fanculo Voglio Minimo Minimo 10 like Per farlo con le luci spente Con le luci spente di notte E se ne arrivano 15 Lo faccio con i crit Lasciate tanti like che glielo faccio fare i crit Che la miseriaccia deve soffrire No 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 Aspettiamo Ragioniamo Ragioniamo Lui è qui Se io vado mi incula a sangue Ma che mi inculia a sangue Stato di merda Non ho paura di te Ma non ho paura di te Merda ma se io faccio così Merda Merda Dio Dio misericordia Chiudi la porta Il nome del divino Il nome del divino Il nome del divino Gioco di merda Da lì Chi compare tra col muro No 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 stavo guardando Ah no si è vero Stavo guardando proprio per questo Che non dovevo No Basta Quanto tempo sono di registrazione Ragazzi un attimo che ora Aspettate che guarda che tempo sono Sono a Cazzo c'è qui Dieci Lo fa Va fa culo chiederti Porco il cazzo Mi tocca anche tagliare il video Perchè ho detto Quel mezzo lì Quel porco mezzo la davanti Vaffanculo SCP di merda Sti che neanche li hanno tradotti mi sa Perchè non li ho mai visti Io ci sono stato un po' nella pagina e No porca una miseria Non si può No No l'ultimo eh l'ultimo Anzi sapete cosa Lo finisco qui No anzi no Faccio l'ultimo che porco il cazzo Un po' di coraggio Devo averlo anch'io Vaffanculo stronzo Vieni qui figlio di troia Tua madre è fatta di veleno 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 Chiudi a porta Porco il cazzo Lui non dovrebbe essere in grado di teletrasportarsi Cazzo Gioco di merda Gioco di merda No dai lui non si teletrasporta Dov'è? 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 No mi ha chiuso dentro Sono fottuto non mi vuole fare uscire Splevati stronzo Ok Ok Ne porto un altro ma sto qua finisce qui Sto qua finisce qui